Ben 15 macchine danneggiate dai vandali. Per due notti consecutive i gnocchi hanno preso di mira le auto in sosta in via Oletta a Ostia. Amaro risveglio per i proprietari che si sono ritrovati prima con gli specchietti in frantumi e poi con la corrozzeria completamente regata. Due notti brave, con state care agli abitanti della zona che ora dovranno sostenere le spese per le riparazioni. Per due notti di fila purtroppo abbiamo subito degli atti vandalici tant'è che la mattina ci siamo svegliati e eravamo tutti in strada a verificare lo stato delle vetture che come vedete insomma ecco già questa è stata danneggiata ma ne sono state danneggiate più di 15 sicuramente. Si tratta di danni di che tipo? Beh la prima sera sicuramente hanno spaccato quasi tutti i specchietti delle auto probabilmente mediante un calcio insomma non è che avessero qualche corpo contundente. E poi ieri sera anche dei graffi su proprio la carrozzeria dell'auto quindi andiamo anche sui migliaia di euro di danno. A quanto pare una persona avrebbe assistito alla scena. Nella stessa serata di ieri sera sono stati compiuti questi atti vandalici. La sera precedente c'è stata una persona che ha visto e sentito questi atti vandalici, ha allertato la polizia che nello stesso lasso temporale ha identificato appunto queste persone che avevano compiuto da poco questi atti vandalici. Il problema è che la sera successiva alla denuncia sono stati reiterati i stessi reati quindi questo diciamo ci porta ad avere sempre più paura che ogni sera possa avvenire la stessa cosa. I cittadini non si sentono tranquilli e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine ma soprattutto all'amministrazione del Delcimo Municipio la possibilità di installare le telecamere di videosorveglianza. Io credo che oltre ai passaggi che comunque possono essere sicuramente utili, anche un'area videosorvegliata potrebbe essere utile, c'è una situazione di degrado ormai stabile che si è ramificata e nella quale ovviamente chi vuole delinquere delinque senza controllo. Non è l'unica zona di Ostia presa di mira dai vandali. Da tempo sono sotto scacco delle baby gang anche piazza Torsa Michele e via Rutilio in Amaziano.